Musica Bentrovati giovedì 29 agosto 2019, nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani che troverete oggi in Edicola, l'apertura dedicata alle prime pagine dei giornali abruzzesi, partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara, un po' tutti i quotidiani regionali e nazionali parlano ovviamente anche della crisi politica in via di risoluzione nel nostro paese, come per esempio anche il centro nella prima pagina di Pescara, vedete governo, ci pensa Conte, Movimento 5 Stelle e PD pronti alla sfida, questa mattina il premier uscente, Sarada Mattarella riceverà l'incarico ufficiale per la formazione del nuovo governo, poi vedete più in basso Grillo gela tutti, no a ministri politici. Vediamo invece le questioni di casa nostra, una tragedia accaduta in Grecia, la scomparsa di un 32enne di città Sant'Angelo che ha perso la vita durante un'immersione, era in vacanza proprio in Grecia. Vediamo anche la stagione venatoria, il Tar sospende il calendario della caccia, poi vedremo anche un servizio e poi Festa Nazionale dei Borghi Autentici, Barrea sarà la capitale nel prossimo weekend. Andiamo a vedere altre due notizie, Pescara, bambini intossicati a mensa, la Cirfood rimborsa le famiglie e poi allarme amianto a Francavilla, tetti distrutti dalla Grandine, 10 casi segnalati alla ASL. Vediamo la prima pagina del centro di Chieti, Lanciano, Vasto, Camera di Commercio, 7 candidati, ecco chi è in corsa per l'incarico di segretario, il contratto sarà di 110 mila euro all'anno. Vasto precipita dal balcone, 11 anni, il mistero indaga la polizia, Ortona, depuratore in tilt, gasolio e acque di fognatura scaricati in mare dal peticcio. Vediamo anche la prima pagina del centro di Teramo, la tragedia in mare accaduta a Roseto, muore davanti a moglie e figlia, turista di 78 anni stroncato da un malore mentre fa il bagno a pochi metri dalla riva. Vediamo anche a Teramo sbloccati i fondi per rifare gli asfalti delle vie del centro, il cratere teramano in arrivo, 50 tecnici per accelerare la ricostruzione post terremoto. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Vezzano, Sulmona del centro. Partiamo dall'Aquila, 10 mila fedeli per la Porta Santa, perdonanza in migliaia tra corteo storico della bolla e cerimonia di apertura. Vediamo ancora, ci spostiamo nella Marsica, scuole sicure, menze e pullman, tutte le novità in vista dell'inizio delle lezioni. E poi tragedia Sulmona, medico trovato morto in casa, il dottor Cercone aveva 71 anni. Vediamo anche la prima pagina del messaggero, ritroviamo la notizia della tragedia accaduta in Grecia ad un abruzzese di città Sant'Angelo di 32 anni, fatale, un'immersione subacquea, lo hanno trovato con la maschera rotta sul viso, l'incredulità, il dolore degli amici su Facebook. E poi vedete l'evento clou della perdonanza, siamo nel vivo della manifestazione con questa foto che testimonia proprio l'inizio di questo importante appuntamento, 725esima edizione della perdonanza celestiniana. Siamo all'Aquila, auto precipita nel giardino di un palazzo, una donna di 86 anni ha perso la vita. E poi di spalla ritroviamo anche la notizia che riguarda il calendario venatorio abruzzese, il Tar blocca la caccia a settembre, non si spara. Vediamo poi in basso altre due notizie, la prima ci porta a Chieti, truffatore ruba l'identità di un avvocato. E poi scuola, niente panino, portato da casa, parliamo in questo caso delle scuole di Pescara. Vediamo anche in alto, partiamo da Sulmona dopo Cirilli senza compenso, adesso scoppia il caso Cavallone. E poi Regione, ricostruzione, altri 50 assunti per accelerare progetti e lavori nel cratere del terremoto. E poi il calcio serie B del grosso Sveglia e il Pescara. In arrivo intanto lo svedese Ingelsson. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano, la città morte al mercato in riva al mare, due turisti stroncati da malore tra le brancarelle di Tortoleto e sulla spiaggia di Roseto. Vediamo in alto a Giulianova, piscinetta in giardino ma è suolo pubblico. E poi doppiette bloccate, il Tar boccia la caccia abruzzese. E poi agosto è passato, niente asfalti, siamo a Teramo, stavolta intanto la gradatoria della gara d'appalto. Vediamo anche altre notizie, piazza Dalmazia, siamo a Giulianova, sarà rialzata senza sosta per le autovetture. E poi lo studio dell'Università di Teramo, 140 miliardi di tonnellate di cibo spazzatura. Vediamo anche un titolo che riguarda il calcio, mercato parla il manager, direttore generale del Teramo Andrea Coni, tra l'altro martedì sera era stato ospite nei nostri studi in occasione del primo numero di Proteramo. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere ovviamente ora i quotidiani nazionali, tutti i titoli sono incentrati sulla politica con il nuovo presidente incaricato Conte, è pronto a lavorare per la formazione del nuovo governo. Il governo nelle mani di Conte, vedete il titolo del Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle e PD, dicono sì oggi l'incarico, lite sui vicepremiere, sulla piattaforma Russo, Grillo, più ministri tecnici, chiede il fondatore del Movimento 5 Stelle. E poi Brexit, siamo in Gran Bretagna, Johnson chiude il Parlamento, la protesta dei 900 mila o la sospesa fino al 14 ottobre per evitare il dibattito sull'Unione Europea, sì della regina. E poi Boris e la democrazia sospesa l'arma per trattare con Bruxelles, c'è l'approfondimento proprio su quello che accade oltre la manica. Vediamo Repubblica, Coraggio Conte, sarà dura il titolo di Repubblica, Di Maio non rinnego il lavoro fatto in questi 14 messi con la Lega, vogliamo completare quello che abbiamo iniziato nel marzo 2018, quello che dice l'esponente del Movimento 5 Stelle, dall'altra parte Zingaretti del PD, proviamoci, svolte discontinuità le parole chiave, basta con l'odio e la paura, non è una staffetta ma una nuova sfida. Vedete anche poi su Repubblica il titolo che riguarda la Brexit, golpe all'inglese, firmato Johnson chiude il Parlamento per brindare la Brexit, un conflitto istituzionale senza precedenti, scrive Repubblica. Vediamo il fatto quotidiano, la fumata a Bemus, dopo tanto fumo nero esce il bianco, oggi il Presidente della Repubblica Mattarella in carica a Conte. per il Governo, vediamo anche Libero, ennesima conferma, comandare il Sud, ribattone contro il Nord, i meridionali si sono impadroniti del Paese, con una secessione di fatto, scrive Libero, Conte resta Premier, vedete poi in basso quest'altro titolo, e poi Grillo ha le allucillazioni, crede in un unico Dio se stesso, Zingaretti ha calcolato tutto, perde la faccia, ma tiene il posto, vedete questi titoli del quotidiano libero, il mattino di Napoli, torna Conte, sfida sui ministri, via libera di Zingaretti e di Maio, oggi Mattarella, dà l'incarico, e poi il reportage, i turisti terrorizzati si rifugiano in una chiesa, scoppia di nuovo lo Stromboli, rischio tsunami, mare vietato. Vediamo anche il manifesto, la Corte di Conte, Movimento 5 Stelle e PD in coronone, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi al Quirinale per l'incarico, Salvini sconfitto, parla di complotto, si apre ora la partita più difficile su squadra e programma, con l'incognita Russo, gli altolà paradossali di Grillo, e poi in basso, Salvini blocca i porti contro la Mare Ionio, Mediterranea salva 98 migranti, 22 i bambini sotto i 10 anni. Vediamo il messaggero, la pagina nazionale, il bis di Conte, duello sui tecnici, oggi Mattarella, dà l'incarico, poi vedete più in basso, il PD apre ai grillini nelle regioni, e poi anche sul messaggero, Johnson chiude il Parlamento per la Brexit, Westminster sbarrata fino al 14 ottobre, per facilitare il no deal con l'Unione Europea. Tutto questo con l'ok della regina. Sole 24 ore, governo accordo per Conte Premier, BTP ai minimi storici. Leggiamo questi sommari del Sole 24 ore, sono piuttosto interessanti. Mattarella ha convocato questa mattina alle 9.30 il presidente di Missionario, la soluzione della crisi innescata da Salvini spinge gli acquisti sui titoli di Stato, e poi il rendimento del decennale scende per la prima volta sotto la sogna dell'1%. Dunque, come dire, che i mercati vedono di buon occhio la formazione del nuovo governo. Vediamo anche la verità, Di Mario consegna i 5 stelle al PD, dal governo del cambiamento a quello dell'elite, scrive la verità. E Grillo lancia la bomba, nessun politico tra i ministri, solo competenti. Vediamo anche la stampa di Torino, i paletti di Mattarella per il Conte Bis, e poi Brexit ad ogni costo, Boris Johnson sospende il Parlamento. Vedete il titolo in basso, l'ultimo azzardo per sfidare l'Unione Europea. Vediamo il tempo, Salvini guarda che hai combinato, questa mattina in carico Giuseppe Conte per riportare il PD nella stanza dei Bottoni. Vedete la foto con Salvini con le mani sul viso, e poi solo Calenda, detto no all'inciucio, per protesta l'ex ministro Calenda, ha lasciato il Partito Democratico, con una lettera piuttosto polemica. Vediamo il secolo.it, finalmente in piazza, Giorgia Meloni dà appuntamento agli italiani per la protesta popolare contro il governo degli sconfitti. Vediamo poi sotto, in primo piano, Berlusconi vuole il voto, ma dice no al sovanismo, Zingaretti è resa al Movimento 5 Stelle con un discorso da miss, e poi il PD non è al governo, ma già a Zanna, il TG2, questi gli altri titoli del secolo.it, dal secolo.it al secolo XIX, il quotidiano genovese, c'è l'accordo Movimento 5 Stelle e PD, oggi l'incarico a Conte, Mattarella chiama il premier per l'incarico bis, ma vuole un programma e squadra in pochi giorni. E poi il Festival di Venezia, lo scontro su un polaschi, accende il festival, la madrina del festival Mastronardi, dalla giuria critiche alla presenza, come leggiamo in questo titolo, di Polanski. E poi un'altra notizia, che non abbiamo ritrovato sugli altri quotidiani, New York accoglie Greta, parte il giro delle Americhe, della ragazza, dell'equattivista svedese, che vuole sensibilizzare il pianeta sul cambiamento climatico. Vediamo avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana, Conte fa i conti con il PD, si gioca ovviamente sul nome di Conte, e sul fatto che bisognerà avere a che fare con il PD per la formazione del nuovo governo, nel senso che bisognerà trovare un accordo, non semplice, con il Partito Democratico. E poi i bimbi salvati, no, anche a loro, la Maria Ionio soccorre 98 persone, tra cui 22 minori, sbarco negato. Poi vedete Londra, Parlamento chiuso, rivolta, Johnson ferma i lavori per ottenere la hard Brexit, scrive il quotidiano avvenire. Lasciamo dunque l'edicola nazionale, possiamo tornare al centro per ripartire da pagina 2, parliamo di turismo, di scoperta del territorio, con i borghi autentici, con Barrea, centro dell'Aquilano, capitale dei borghi autentici. Ci sarà nel weekend la festa nazionale, ma sia presidente dell'associazione, segnale di rinascita. E dunque questo è il titolo di apertura su questo argomento, con l'Abruzzo che si apre, non solo ai turisti nazionali, ma anche a quelli di fuori Italia. Poi parla il sindaco Andrea Scarnecchia, noi custodi del territorio, contro tutte le speculazioni. E poi il programma del weekend, a Barrea, tre giorni di convegni, musica, cibo e il festival del Saltarello. Vediamo poi invece l'altra pagina, parliamo degli itinerari della fede, perché a tocco da Casauria, siamo in provincia di Pescara, nascerà il santuario voluto da Papa Francesco. Il Santo Padre infatti ha manifestato il desiderio di inaugurare il luogo di culto, sarà dedicato alla Madonna del Silenzio, di cui Bergoglio è devoto da tempo. La storia, tutto nasce da un affresco copto dell'VIII secolo. Vedete questo affresco con l'icona della Madonna del Silenzio, per cui ha una grande devozione. Anche il Pontefice. Parliamo ora invece, restando alla cronaca regionale, della stagione venatoria bloccata, perché il Tarrabruzzo sospende il calendario della caccia. Niente doppiette in azione dal 1 settembre, se ne riparla dopo il 25. Il WF è Lega per la difesa del cane, un piano dannoso per la fauna selvatica. Ieri mattina avevamo ascoltato, a tal proposito, prima della decisione del Tarra di sospendere il calendario venatorio, Augusto De Salantis, della stazione orbitologica abruzzese, e anche da lui era arrivato, in un certo senso, uno stop alla partenza del calendario venatorio per il 1 settembre. Allora possiamo andare ad ascoltare proprio Augusto De Salantis, che spiega le ragioni e le critiche dell'associazione proprio al calendario venatorio, poi bloccato dalla decisione del Tarra. Vediamo. Sul calendario venatorio della regione Abruzzo, già approvato dalla Giunta, e che presenta delle criticità, anche secondo l'ISPRA, anche voi De Santis, avete a vostra volta presentato delle obiezioni, perché? Sì, perché intanto è stato approvato senza valutazione di incidenza ambientale, incredibile, cioè si fa prima il provvedimento e poi si analizza dal comitato via della stessa regione Abruzzo. Poi il parere dell'Istituto Superiore per la ricerca e protezione ambientale, che è il massimo organo dello Stato in materia, ha reso un parere durissimo nei confronti di questo calendario venatorio, chiedendo l'anticipo della chiusura della caccia da gennaio a dicembre per molte specie, e anche il posticipo dell'apertura dell'attività venatoria per altre tante specie, più di 10, da settembre a ottobre. Poi c'è la questione della preapertura, all'1 settembre addirittura alla Tortora, una specie in forte declino. L'apertura dopo molti anni della caccia nelle aree di foci dei fiumi, nella conurbazione costiera, queste foci sono come delle oasi per gli uccelli durante l'immigrazione, durante l'inverno, che è un periodo molto duro per gli animali, ecco, in piena zona di riposo e di rifugio viene riaperta la caccia. Scelte veramente miopi e anche prive di riscontri scientifici. La Regione Abruzzo non ha il piano faunistico venatorio, non ha dati, nella relazione allegata al calendario venatorio non ci sono dati di sorta rispetto al trend, all'andamento delle popolazioni degli animali e quindi non ci chiediamo come si possa programmare un'attività venatoria addirittura ampliando l'attività stessa, la caccia a molte specie, addirittura alcune delle quali su cui è intervenuto il Ministero dell'Ambiente per chiedere una chiesura a Moriglione e Pavoncella, proprio perché sono in forte calo a livello europeo. De Santis parlava proprio di alcune specie che rischierebbero proprio di essere quantomeno disturbate e specie a rischio. Vedete questo articolo in basso, 12 le specie a rischio o disturbate, lo dice proprio la stazione ornitologica abruzzese, abbiamo ascoltato proprio il fondatore Augusto De Santis e lo dice anche lo studioso Pellegrini, Massimo Pellegrini, lo strumento approvato prima del passaggio alla via e ora il TAR che sospende il calendario della caccia. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara da questa tragedia accaduta in Grecia, muore a 32 anni durante un'immersione, Marco Sablone di Città Sant'Angelo era in vacanza con amici e fidanzata, il soccorritore aveva la maschera disintegrata. Gli amici, porta in cielo la tua voglia di vivere, il cordoglio a Città Sant'Angelo decine di messaggi sul profilo di Marec tra tristezza e incredulità. Vediamo la prossima pagina, allarme sicurezza, rapina sulla Tiburtina, assaltano la parafarmacia con la pistola e portano via 500 euro. Poi energia elettrica rubata nei palazzi e abusivi nelle case scattano le denunce, operazione dei carabinieri al ferro di cavallo a Pescara. E poi piazza la telecamera per sviare i controlli, spacciatore nei guai, sono state sequestrate le telecamere in questa abitazione. Vediamo ancora, scuola, bambini intossicati a mensa, la Cirfood rimborsa le famiglie. Leggiamo ancora, l'azienda finita sul banco degli imputati con quattro suoi rappresentanti sta liquidando le 113 parti offese, in questa maniera non potranno chiedere i danni all'udienza preliminare al via il prossimo 21 gennaio. Andiamo ancora avanti, pagina 19, scuola, vertice in comune, si avvicina l'appuntamento con la prima campanella, studenti in classe senza il panino, pranzo a casa in attesa della mensa, Santilli, l'assessore, vice sindaco del comune di Pescara, incontra i dirigenti scolastici espose alla linea della Cassazione e non ai cibi tra i banchi, annunciati controlli nelle cucire della Serenissima e la sistemazione delle aree intorno agli istituti. Andiamo più in basso, la cronaca, fuggitivo arrestato da agenti pescaresi in trasferta a Foggia e poi Nuova Pescara verso l'Assemblea Bis, fusione con Montesilvano e Spoltore il 19 settembre, incontro tra i consiglieri dei tre comuni coinvolti. Se ne è parlato a Pescara l'altro ieri c'era stata la commissione statuto proprio al comune di Pescara per fare il punto della situazione anche con i vertici dell'associazione Nuova Pescara e noi a tal proposito abbiamo ascoltato, abbiamo portato i nostri microfoni il presidente della commissione statuto del comune di Pescara l'Avvocato Claudio Croce che andiamo ad ascoltare proprio sui prossimi step che ci saranno in vista della nascita della Nuova Pescara. Possiamo allora vedere anche questo servizio. Si torna a parlare di Nuova Pescara e questa è già una notizia ma soprattutto l'Avvocato Croce riprende l'iter per la nascita della Nuova Pescara. Ieri c'è stata questa commissione statuto cosa è uscito fuori? Sì, come ho già detto anche in altre occasioni nella nostra commissione permanente che si riunisce il martedì e il venerdì ormai da un mese e mezzo tra gli argomenti principali della nostra commissione c'è proprio la costituzione della Nuova Pescara. La nostra commissione ha come obiettivo quello di sollecitare le istituzioni e di predisporre tutti gli atti preparatori della fusione della costituzione della Nuova Pescara e quindi il nostro compito e il nostro dovere è portare avanti tutti questi discorsi. Ieri, come hai anticipato c'è stata l'ennesima riunione nella quale abbiamo ospitato Marco Camplone che è il presidente dell'associazione Nuova Pescara che è l'associazione che racchiude all'interno le attività lavorative con Findustria con Fondigianato e altre associazioni e quindi abbiamo risollecitato abbiamo riparlato e riaffrontato alcune problematiche. va innanzitutto precisato che a seguito del referendum che c'è stato nel 2014 il 24 agosto 2018 è stata pubblicata la legge regionale della Costituzione della Nuova Pescara legge regionale che prevede la costituzione la fusione di queste tre realtà Pescara Montesilvano e Spoltore e quindi la nascita della nuova città chiamata al momento Nuova Pescara al primo gennaio 2022 solo a seguito di lavori preparatori relazioni e tanto lavoro che noi dovremmo andare a fare la legge prevede che si potrà chiedere una proroga al primo gennaio 2024 quindi al di là oggi delle resistenze o delle idee diverse da parte di politici o di cittadini oggi vige una legge che prevede la costituzione la fusione e la costituzione della Nuova Pescara quindi da questo punto dobbiamo partire e da qui dobbiamo lavorare per andare oltre non possiamo tornare indietro a discutere se siamo a favore o non siamo a favore restiamo alle pagine della cronaca di Pescara e provincia vedete in alto esposto sull'inquinamento della discarica di Villa Carmine e poi più in basso denunciato un mobilista pirata aveva tamponato padre e figlio di 11 anni in scooter sulla riviera un testimone aveva visto la targa e poi Nicolino e Federica i super chef incoronati a Pescara vediamo a Montesilvano invece quello che accade il Giova Party oggi riviera chiusa alle auto via gli ombrelloni dalla spiaggia vi avevamo proposto l'altro ieri un servizio un'intervista anche con i gestori degli stabilimenti che dovranno togliere entro la giornata di oggi gli ombrelloni per permettere di montare il palco dove si esibirà il noto cantante Città Sant'Angelo l'evento il ritorno della Coppa a Belvedere Ferrari e auto d'epoca nel Borgo e poi Interclub Zanetti cena e solidarietà a Montesilvano a Moscufo via i lavori per rifare le strade danneggiate dal maltempo rischi per la salute a Francavilla al mare allarme amianto 10 casi nella cittadina della provincia di Chieti tegole rotte rilascio di polveri dopo la grandinata di luglio i cittadini chiedono interventi rapidi sopra luoghi della ASL e sempre a Francavilla in veste una quindicenne sulle strisce scappa la ragazza ferita sulla rivina Nord i carabinieri sulle tracce dell'automobilista pirata proseguiamo siamo alla pagina della provincia di Pescara partiamo dalla parte alta della pagina Bolognano il caso cisterna polemica tra Sindaco e Di Marco e poi Manopello scuola iscrizioni aperte per mensa e trasporto penne servizio rifiuti bando di gara pronto entro settembre e poi in basso a Civitella Casanova la ricostruzione prosegue intervento da 506 mila euro per la messa in sicurezza di un edificio in Vico del Colle siamo a Chieti cambio al vertice Camera di Commercio corsa a 7 per l'incarico di segretario conto alla rovescia per la nomina del capo amministrativo Inglizia Pagliaricci Sabella e Pierantoni al via colloqui decisivi con i candidati in Padio c'è un contratto da 110 mila euro all'anno per 4 anni andiamo in basso taxi all'aeroporto Chieti difende due posti si divide la CNA la direzione Teatina si schiera contro Pescara Scastiglia giusto riservare gli stalli dunque prosegue la polemica per gli stalli dell'aeroporto d'Abruzzo riservati ai tassisti siamo a Vasto indagini della polizia cade dal balcone a 11 anni è giallo in città ragazzina in progno si riservata forse si è esporto troppo ma non si esclude il gesto volontario perché vittima di bullismo e poi sempre a Vasto si fingono disabili per cimolare denaro ventenne denunciato dalla polizia per tentata truffa ancora Vasto i lati dei registratori di cassa fanno il bis e poi Delfino trovato morto vicino alla bagnante trascinato dalle correnti da sud verso nord siamo sempre a Vasto ci spostiamo invece a Teramo per parlare della ricostruzione perché ci sono altri venti tecnici per i comuni e per l'USR l'ufficio speciale della ricostruzione nuovi rinforzi dopo quelli annunciati martedì dal commissario Farabollini in totale arriveranno 50 ingegneri la open fiber chiude via delfico multata l'impresa che sta posando i cavi della fibra ottica non aveva l'autorizzazione del comune leggiamo da questo articolo andiamo in basso invece la cronaca minacce di morte per non pagare il conto Pineto coppia di Terramani consumo al collice a sbaffone i bar i carabinieri arrestano l'uomo per estorsione a Silvi nuovo divieto di balneazione per 150 metri parliamo ora ci spostiamo a Roseto di questa tragedia accaduta ieri dove è morto in mare davanti a moglie e figlia Roseto un turista settantottene si accascia a pochi metri dalla riva davanti al lido Bellavista inutile ogni soccorso a Tortoreto stroncato da un malore mentre visitava il mercatino a Colonia spiaggia sosta selvaggia vigili urbani pronti ad intervenire in basso ospedale dei Terramani in Africa aperto in Tanzania grazie ai volontari dell'associazione Amici di San Gabriele restiamo nel Terramano strada carrabile tra Silvio e Montesilvano si sblocca l'iter trovata la soluzione definitiva per la realizzazione della pista ciclabile che fiancheggerà il tratto per le auto la regione ha stanziato i fondi necessari per il completamento del ponte sul fiume Saline vediamo poi più a centro pagina Atri la ASP offre 55 posti per il servizio civile progetto realizzato dalla locale azienda di servizi alla persona e da quella di Pescara sempre ad Atri oggi ultimo appuntamento si chiude il festival Duchi di Acquaviva siamo alla pagina dell'Aquila del quotidiano il centro giubileo aquilano la perdonanza celestiniana porta santa aperta con 10.000 fedeli con le maggio dopo il corteo al via l'indulgenza di Celestino V volti e storie in corteo la voglia di esserci l'attesa di aquilani e turisti assiepati lungo il percorso da Cile Brasile e Stati Uniti i pezzopane nel mondo vedete anche quest'altra pagina con le foto della cerimonia dell'apertura della porta santa e intanto il premio Rotary dell'Aquila va a Don Mazzi la consegna della targa dopo il convegno denominato intitolato dal perdono alla misericordia questa sera la chiusura della festa con Mannoia Barbarossa Turci e Noemi nel concertone finale siamo ancora all'Aquila auto cade per 20 metri muore una donna nove vittime in 40 giorni la micra con a bordo i due figli salvi precipita in un cortile erano arrivati in città per la perdonanza e a gioia di emarsi sempre grave l'uomo ustionato nella sua abitazione il padre mio figlio ha rischiato la vita vezzano bimbo ferito da un sasso e la trinità colpo attutito da un giocattolo che aveva in mano e poi a Sulmona ha trovato senza vita in casa il medico cercone l'ultima telefonata al figlio prima di un malore il 71enne aveva lavorato all'ospedale di Popoli siamo arrivati alle pagine dello sport allora possiamo fermarci per qualche istante poi torneremo in studio con la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 avevamo letto le pagine di cronaca del quotidiano il centro ora siamo al messaggero l'inserto abruzzo partiamo da pagina 2 vedete inquadrata la pagina che parla del post terremoto altri 50 assunti per accelerare la ricostruzione ok dalla cabina di regia nazionale il presidente della regione Marsiglio dice ottenuto più del previsto risultato cognato per lungo tempo per sbloccare i ritardi nelle pratiche e poi le bellezze della nostra regione siamo in provincia di Chieti a casa Canditella con la rocca di Semivicoli il regno del vino dove recitò anche il grande Depardieu vediamo la prossima pagina ci porta a pescare i presidi bocciano il pasto da casa i dirigenti delle scuole comunali si appellano alla recente sentenza della castazione gli alunni pranzano alla mensa la riflessione negli istituti ripartirà dal 23 settembre chi non ne usufuisce dovrà uscire e poi rientrare l'indagine dei vigili pirata della strada rintracciato dopo dieci giorni e denunciato e poi fibra e cantieri timori dei negozianti sul pizzi vogliamo fare presto e bene carabinieri al ferro di cavallo droga soldi e abusivi tolleranza zero staccati sette all'ACN il fuorilegge telecamere a guardia dei loschi traffici tre famiglie in case senza averne diritto muore durante la vacanza in Crecia ritroviamo anche sul messaggero la notizia della tragica scomparsa del 32enne di Città Sant'Angelo Marco Sablone e poi la cronaca ancora in casa droga e telecamere antipolizia pusher nella rete della squadra mobile e poi disagio sociale senza fissa dimora le idee dell'assessore Nicoletta Dinizio assessore che ha illustrato nella commissione politiche e sociali le prime linee di intervento per i senza fissa dimora partendo dall'esigenza di un'analisi aggiornata del fenomeno delle tipologie dei senza avevamo ascoltato nei giorni scorsi proprio sul disagio sociale l'assessore Dinizio Giova Parti siamo a Montesilvano il comune cerca sponsor e intanto proteste e domande sulle spese pubbliche per il concertone oggi il bando per un contributo dei privati Orsini e Di Giampietro incalzano il sindaco De Martinis dopo il taglio delle siepi rimosso il cordolo della ciclabile discarica di Villa Carmine sposto e promesse e poi città Sant'Angelo Ferrari Auto d'Epoca la Coppa Belvedere e poi a Pescara porto turistico e statica una chiusura tutta birra con fermenti d'Abruzzo al Marina siamo all'Aquila la cronaca l'auto precipita per 20 metri muore la madre di due fratelli tre erano diretti a Collemaggio la vettura ha sfondato un cancello ha perso la vita una 86N resta da accertare la dinamica a Barete grande folla sotto il tendone in piazza per dire addio ad Alessandro Pacifici e poi Vandali in azione panchina danneggiati carica batterie per i cellulari emiciclo reading su cecchini e uno degli appuntamenti per quanto riguarda la città dell'Aquila in questi giorni della perdonanza celestiniana che ritroviamo a pagina 43 il messaggio di Celestino riaccende la speranza migliaia al corteo e poi a Collemaggio Biondi il sindaco dice la città è viva Cialente plaude sfilata bagnata da un breve acquazzone dama e giovinsignore saluto sul balcone tre rintocchi due cardinali e la porta così si è aperta l'indulgenza plenaria Bertello il ricordo della tragedia del sisma ero con voi nel dolore poi il gran ritorno di Fiorella Mannoia con Noemi Turci Barbarossa nel concertone finale della perdonanza siamo nella marsica in Valle Peligna partiamo da Sulmona dunque dalla Valle Peligna dopo Cirilli scoppia il caso Cavallone il compositore internazionale che lavora all'opera di Parigi si sfoga in un post su Facebook anche con me sono scappati ha detto il compositore per il bimillenario era stato previsto un balletto con una star della danza un inspiegabile cortocircuito ha spento tutto leggiamo da questo titolo del messaggero Avezzano all'arbi incidenti sulla Tiburtina la mappa delle strade pericolose pesca a Seroli l'orsa Sebastiana ha perso due cuccioli mentre scappava da foto e riprese video gioia dei marsi istionato dalla bombola gas migliora il pensionato ambiente la faggeta della marsica che assomiglia all'Amazzonia vedete la faggeta nella foto di Colle Longo siamo a Chieti falsa identità di noto avvocato utilizzata per la truffa dell'auto al professionista Teatino arriva intimazione per pagare 32 mila euro lui diffida la società presentata una denuncia contro i gnoti la lancia Ipsron rivenduta subito reati prescritti vediamo poi di spalla gli addetti della piscina senza stipendio da marzo siamo a Chieti e poi al convitto Gian Battista Vico si leggono le pagine di Manzoni torniamo alla polemica per i taxi in aeroporto la CNA promuove Marsiglio il direttore Scastiglia fra i comuni non c'era intesa decreto legittimo con l'autorizzazione per due tassisti di Chieti di sostare presso l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara Marciano il teatro celebra il campione siamo a Ripa Teatina in primo assoluto a spettacolo il 31 agosto 50 anni dopo la morte del grande e indimenticato pugile di origine abruzzese siamo alla pagina di Lanciano Vastortona partiamo da Lanciano feste di settembre appello alla devozione l'arcivesco Emilio Cipollone dice i valori della povertà la base del percorso oggi il via con gli spari di Mortaretti batteria pirica tutti gli eventi organizzati dal comitato civico in scena fino a 16 e la più grande kermesse di tutto l'Abruzzo da Lanciano ci spostiamo a Vasto chiedevano soldi per finta associazioni e poi Vasto Malmena conducente dell'autobus scusate è stato denunciato e poi a Ortona morte dei cinesini chiesta la situazione della sicurezza a Teramo lavori per la fibra strada bloccata file caos e proteste la ditta non era autorizzata a chiudere via Delfico multata sanzionata anche l'impresa del gas per i disagi in via Oberdan sempre a Teramo abbandono di rifiuti e mancate bonifiche 18 procedimenti per reati ambientali e poi il dramma con il professore che muore al mercatino è accaduto a Tortoreto era appena andato in pensione Antonio Ciunci 67 anni ha avuto un marole fatale a Tortoreto Cordoglio a scuola oggi ci saranno i funerali partono i lavori ma non sul lungomare siamo a Giulianova l'assessore di Candido il nostro è uno studio di fattibilità la zona monumentale resta così com'è nessun rifacimento ci sono da spendere 1.400.000 euro verrà tolto lo spartitraffico al suo posto il comune pensa ad una fontana a raso con banner vediamo più in basso al Badriatica benvenuti alla spiaggia Collonscalino erosione proteste degli stabilimenti ombrelloni in mezzo al mare e a nord c'è l'arenile dei Fachiri Giulianova ancora polo scolastico nell'ex tribunale finanziamenti ok uffici al lavoro il progetto è quasi al completo riapertura della colleranesco roseto ritroviamo anche sul messaggero la notizia del 78enne annegato in mare davanti a figlia e nipoti siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport ma prima di parlare di sport andiamo a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città iniziamo da pagina 5 la ricostruzione lavoro condiviso per avere più risorse l'assessore regionale l'iris siamo riusciti a dimostrare il livello effettivo dei danni provocati dal terremoto e poi anche sul quotidiano la città la tragedia l'articolo sulla tragedia è accaduta in Grecia con la morte di un 32enne di città Sant'Angelo all'Aquila per donanza in 10.000 partecipano al corteo della bolla Teramo cantieri fuori controllo in centro storico i vigili multano i lavori di Open Fiber per il blocco di via Delfico stessa cosa per rete gas in via Oberdan parcheggio dissociato in via Fedele Romani la segnalazione stallo per disabili o per motocicli tutta questione di strisce cambiate le regole per la detenzione di armi siamo a pagina 8 la questura di Teramo ricorda la scadenza del 13 settembre per il certificato medico di idoneità psicofisica agosto è passato e ancora niente asfalti il comune aggiorna sui complicati aspetti burocratici stavolta intanto i risultati iniziali della gara per il piano e intanto a Teramo tubulista indagato per la morte dello scuterista il cibo spazzatura pesa 140 miliardi di tonnellate lo studio dell'università di Teramo e crea del professor Serafini pubblicato sulla rivista scientifica Frontier in Nutrition vediamo ancora pagina 11 mezzo milione d'utile semestrare per la BCC di Basciano l'istituto di credito cooperativo migliora tutti i fondamentali nel trentesimo anno della sua fondazione vedete nella foto i vertici della BCC con Fabrizio Menaguale Carlo Di Camillo Maurizio Schiappa e Salvatore Di Giovanni parliamo anche di salute mammografia mobile ASL in piazza a Val Vomano e poi Bellante cade da una pedana sospesa 45enne in rianimazione all'ospedale di Teramo proseguiamo con pagina 12 yoga tango e interazioni in piazza martiri domenica dedicata alla cultura e al benessere con l'associazione Ipsis di Nino di Eusanio proseguiamo ancora parliamo anche attraverso le colonne del quotidiano la città della questione caccia perché il tar lo abbiamo detto anche prima abbiamo visto anche un esservizio sospende il calendario venatorio i giudici bloccano le doppiette almeno fino al 25 settembre dopo il ricorso presentato dagli ambientalisti Dino Dino Pepe valattacco sonora bocciatura per la giunta Marsiglio l'ex assessore regionale attacca il suo successore imprudente a farne le spese sono i cacciatori abruzzesi la strada di scarica la pedemontana sarà ripulita dalla teramo ambiente appello della provincia ai comuni e cittadini per evitare l'abbandono incontrollato di spazzatura e poi 18 procedimenti penali per reati ambientali abusi edilizi dei controlli il bilancio dei controlli della polizia provinciale sul territorio nonostante le difficoltà arrivate con la riforma del Rio siamo a Tortoreto muore per un malore al mercatino arresto cardiaco per uno turista di 67 anni poi Martinsicuro nasce un grande polo sportivo dedicato al beach volley nella cittadina della provincia di Teramo e sempre a Martinsicuro Cronaca sorpresi a scassinare i distributori della lavanderia arresti domiciliari per due disoccupati già noti alle forze dell'ordine albadriatica disagi lungo via Roma per il semaforo guasto pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni che attraversano la strada siamo la pagina di Giulianova niente Giova parte in città ma solo la cover band ufficiale di Giovanotti e poi Piazza Dalmazia rialzata e senza sosta esclusi stravolgimenti al centro del Lido limite di 30 km all'ora sul lungomare l'assessore di Candido fa sapere che nel 2020 si punterà sulla manutenzione e non alle grandi opere alla Rocca piscina sistemata ai giardini rimossa in poche ore siamo ancora in provincia di Teramo Pineto consuma alcol nei bar e minacce proprietari per non pagare il conto 45enne che beveva scrocco arrestato dei carabinieri per estorsione Roseto turista muore mentre fa il bagno Silvi ok al collegamento alternativo con Montesilvano entro la fine dell'anno dovrebbe concludersi l'iter e si procederà all'affidamento dell'opera sociale 55 posti siamo ad Atri servizio civile all'ASP2 di Atri con appunto 55 posti a disposizione dei giovani volontari a Silvi vedete in basso Amato parla delle radici cristiane dell'Europa appuntamento domani sera nel salone dei convegni San Francesco con Gianfranco Amato laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano libero professionista che opera attivamente nel campo della bioetica siamo alla pagina della cultura il jazz italiano torna nelle terre del sisma sabato 31 agosto e domenica primo settembre all'Aquila la quinta edizione della manifestazione Jazz for Italy lasciamo dunque anche le pagine del quotidiano la città siamo arrivati alla pagina sportiva invece come sempre nell'ultima parte del nostro appuntamento con Mattino 6 partiamo dai titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali per vedere quelli che sono gli argomenti principali Gazzetta dello Sport Juve Maxigol con Ronaldo il suo reparto offensivo resta dominante Angelotti pericoloso grazie a Lozano intertemibile se rigenera Sanchez e proprio Sanchez a Milano oggi si allena Zamorano ex nerazzurro certo qui rinascerà e intanto oggi ci sarà il sorteggio della Champions League tutti ad inseguire Liverpool Manchester City e Barcellona vediamo poi in basso Sarri vuole esserci con il Napoli il tecnico bianconero sta meglio aspetta l'ok dei medici Mijajovic tecnico del Bologna dimesso dall'ospedale domani sarà allo stadio e poi Milan e Gero con l'Atletico per Correa rischio che possa saltare tutto nelle ultime ore mercato che si chiuderà il 2 settembre Corriere dello Sport Icardi va alla guerra resta all'Inter chiede di giocare no a qualunque offerta e reintegro negli allenamenti tattici Maurito alza il tiro adombrando una battaglia legale Conte lo rimette nel gruppo almeno per ora e chissà che un domani Icardi non possa tornare a giocare e a indossare la maglia nera-azzurra in basso Totti frusta la nuova Roma i tifosi meritano una squadra da Champions League ora non è completa dice l'ex capitano bisogna stare vicini a Fonseca difesa si lavora su Rugani vediamo tutto sport i 4 giorni dei sogni vedete in alto perché oggi alle 18 ci sarà il sorteggio della Coppa dei Campioni e poi lo sguardo attento di tutto sport alle due squadre torinesi Toro fai come a Bilbao a Wolverhampton dopo il 2 a 3 dell'andata serve un'autentica impresa per restare in Europa e poi invece Juventus Raktic e ancora Inter Juve lasciamo le pagine dei quotidiani sportivi nazionali le prime pagine in questo caso andiamo a vedere invece lo sport dalle colonne del quotidiano il centro prima pagina sport nazionale Inter dopo Alexis Sanchez si punta anche al Llorente il cileno ex United sbarca a Milano oggi primo allenamento agli ordini di Conte Champions League oggi il sorteggio dei gironi Real Mina Vagante e poi in basso Mijailovic dimesso con la spalla sarà in panchina una bella notizia per il tecnico serbo della formazione felsinea e poi il Pescara con la pagina dedicata all'intervista a Galano io Dio la strada con il Pescara voglio là l'attaccante dopo tanto sono finalmente qui e voglio lasciare il segno questo è anche l'augurio dei tifosi Biancazzurri intanto in vista della gara di domenica prossima alle 18 esordio stagionale di campionato dinanzi ai propri tifosi per il Pescara contro il Pordenone ancora problemi di formazione per il tecnico Zauri perché Balzano non è al meglio ma stringerà i denti invece Bettella è in dubbio per un problema ad un piede rientrerà Scognamiglio dopo la squalifica e dovrebbe rientrare anche Palmiero dopo qualche problema fisico che ne aveva impedito l'utilizzo nella gara di Salerno e intanto sul fronte mercato sfuma Matos va in Svizzera il Delfino torna su Bonazzogli attaccante dell'Udinese è un passo da Lucerna i Biancazzurri chiedono alla Sampdoria la punta ex Lanciano in arrivo Ingersson e Bocic castrati via dovrebbe andare a giocare in Svizzera con il Lugano del presidente Angelo Renzetti ma noi facciamo il punto del mercato del Pescara andando a sentire e a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini Calcio mercato ma anche campionato sono i due binari su cui si muove il Pescara in questa delicata settimana che deve portare al riscatto della sconfitta di Salerno l'occasione deve essere il match con il Pordenone di domenica e colmare le lacune dell'organico a disposizione di Luciano Zauri la giornata è stata positiva per incassare il Sì dell'Udinese per la possente mezzala svedese Svante Ingelsson si attende solo l'ufficialità per la chiusura di un'operazione che ha avuto l'accelerazione nella giornata odierna quando il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il direttore Antonio Bocchetti hanno incontrato il club friulano il giocatore arriva in prestito e il suo innesto va a conferire centimetri il 24enne di Calmar e circa un metro e novanta e fisicità ad un reparto che è carente di queste qualità arrivato all'Udinese nell'estate 2017 ha collezionato in quella stagione otto presenze di cui tre da titolare tra campionato e Coppa Italia con due gol ad attivo la scorsa stagione è stato limitato da un infortunio estivo al crociato e un altro alla spalla nella parte finale del campionato con appena tre presenze tutte partendo dalla panchina accordo che arriva proprio nelle ore in cui si spegnevano le possibilità di riavere in prestito dall'Atalanta Luca Valsania che ha praticamente definito l'accordo con la ambiziosa Cremonese se la strada è in discesa per Ingelson si fa più in salita quella per Ryder Matos sempre dall'Udinese sull'esterno brasiliano si sono inseriti di prepotenza gli svizzeri del Lucerna che allettano l'esterno brasiliano con una buona offerta economica e la possibilità di giocare nel massimo campionato elvetico se Matos dovesse scegliere il Lucerna sarebbero guai per il Delfino che potrebbe tornare su Antonio Di Gaudio del Verona ma sempre col solito problema l'ingaggio troppo alto è fuori dalla portata del Pescara oggi intanto la Lega di Serie B ha calendarizzato le partite dalla terza alla sesta giornata i Biancazzurri dopo la sosta giocheranno a Cosenza domenica 15 settembre all'ora 15 poi sabato 21 settembre sempre all'ora 15 match casalingo contro la Virtus Entella quinta giornata con turno infrasettimanale Pescara di scena al tombolato di Cittadella martedì 24 alle ore 21 quindi anticipo della sesta giornata all'Adriatico Cornacchia contro il Crotone venerdì 27 alle ore 21 e vediamo anche come il messaggero tratta l'argomento Pescara Pescara adesso iniziamo a correre lo dice Cristiano Delgrosso nell'intervista che vi proporremo oggi nel corso delle edizioni del TG6 il terzino fa anche autocritica tanti errori ma presto si vedrà quello che chiede Zauri e poi in mercato ne parlava anche Andrea Costantini nel servizio Beffa Matos va in Svizzera può arrivare Ingelson parliamo anche di volley bagno di folla per la nuova Sico Ortona presentata la nuova squadra mancava solo Matteo Bartoli impegnato nella Coppa Beach parliamo di serie C e di serie D e anche di altri sport Teramo soltanto accessioni dopo Mangraviti si procede solo a smaltire la rosa Infantino alla fine potrebbe restare e poi mercato di lettanti di Paolo e Bardeggia colpi del Giuliano parliamo del campionato di serie D e poi ogni giovedì anche nella giornata di oggi ritroviamo la mezza pagina che il messaggero dedica alla Wisp al calcio Wisp Coppa di Lega 2019 il 2 settembre si giocheranno le gare di semifinale poi vedete in basso gli altri articoli sulle varie squadre e i vari argomenti che riguardano il calcio provinciale della Wisp di Pescara torniamo al centro proprio per parlare del Teramo abbiamo visto dal messaggero il titolo che riguarda le cessioni e pinza voti verso il Novara il direttore generale Iaconi mercato in entrata è chiuso ma restiamo ancora vigili ha detto Iaconi lo ha detto nei nostri studi martedì sera nel corso di Proteramo e poi la serie D con l'avastese che è stata presentata ieri sera ai tifosi parla il tecnico Marco Amelia la mia avastese darà filo da torce rappresentata la squadra Palazzo Davolo Sille tecnico domenica a battere il Chieti per far felici i tifosi e poi Giulianova firma di Paolo Avezzano Falco o Tomaselli questo per quanto riguarda il mercato dei marsicani vediamo anche il mercato dilettanti Faresina preso di Prinzio San Francesco scatenato in basso Lanciano la selva verso l'addio c'è l'Aquila attaccante ha le valigie in mano ed è ad un passo dai rosso-blu la torrese vira su Ranieri vediamo anche il volley sul centro l'impevido ortona riparte Lanci il livello è più alto la seco si raduna l'allenatore per qualità di gioco questo campionato sarà dei primi dieci d'Europa il presidente speriamo di lottare per il vertice e poi vediamo calcio a cinque acqua e sapone preso il baby Liviero in basso sport equestri al via l'eponia dice anche l'abruzzo pallacanestro l'amatore inizia la preparazione amatori pescara teramo il via alla campagna abbonamenti andiamo a vedere anche la pagina che riguarda l'ital basket che vola i mondiali rebus ricci sabato il via l'alea teatina si gioca il posto con tessitori nei 12 azzurri domani la decisione definitiva del commissario tecnico dell'italia romeo sacchetti parliamo anche di basket di serie b e sacchetti salta il test con la poderosa teatro in campo giovedì contro iesi il 14 settembre ci sarà la presentazione alla stampa e ai tifosi della formazione teatina e siamo allo sport del quotidiano la città prima di salutarci parliamo ovviamente del teramo speranza infantino e mercato parla Iaconi il general manager bianco rosso in diretta su tv6 l'altra sera lo dicevamo prima nel corso di pro teramo chi non crede a questa società ha detto il direttore generale deve andarsene parole chiare quelle del dirigente del teramo parliamo anche di pattinaggio in basso europei oro e bronzo nella seconda giornata per varani e clementoni nella rassegna in corso a pamplona in spagna i due atleti della rolling pattinatori bosica regalano due medaglie davvero imperportanti alla nostra regione vediamo anche il ciclismo per chiudere ciclismo che ci porta a controguerra successo per la wine bike la cicloturistica tra le colline del comune vibratiano ha fatto registrare dei numeri davvero da record vedete le foto dell'evento che si è svolto a controguerra a proposito di ciclismo vi ricordo questa sera come ogni giovedì l'appuntamento con velo con il nostro Jacopo Forcella e con Luciano Rabottini per parlare di ciclismo nel consueto appuntamento del giovedì per quanto ci riguarda invece per quanto riguarda mattino 6 è davvero tutto grazie a Claudio Di Giacomo in regia grazie a voi per averci seguito vi ricordo per quanto concerne invece l'informazione della nostra rete come sempre alle 14 la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata a tutti grazie a tutti